Qualche giorno dopo la rissa, che ha avuto una vasta eco nazionale, parla Leonardo D'Antuono, titolare del bar Ribot, situato nei pressi del luogo in Piazza Doria, dove è avvenuta la rissa che ha coinvolto oltre dieci persone, lasciando ben quattro feriti. D'Antuono ha fatto appello all'amministrazione comunale affinché venga finalmente attivata l'isola pedonale e il sistema di videosorveglianza, già previsti per la zona ma ancora non implementati. Angri non è questa. Angri sappiamo benissimo che è fatta di brava gente, gente che lavora, come anche noi di commercianti seri. Purtroppo sabato sera c'è stato un episodio di violenza in questo angolo di serenità che noi abbiamo costruito nel corso degli anni. e niente, io vorrei dire all'amministrazione di accelerare soprattutto sul progetto dell'isola pedonale quantomeno dalle 18 di sera a fine serata affinché scendesse una tipologia di utenza diversa rispetto a quello che sta scendendo ultimamente. Nel suo intervento D'Antuono ha sollecitato l'amministrazione ad adottare azioni più incisive suggerendo che il comune si costituisca parte civile per i danni arrecati alle attività commerciali e soprattutto per l'immagine del paese, gravemente compromessa dall'episodio. Io ho chiesto questo perché ci ha dato l'esempio il nostro sindaco, non il nostro sindaco ma bensì il sindaco del paese limitrofe di San Antonio Abate che al primo atto di violenza nei confronti dell'amministrazione non ha perso tempo a denunciare persone molto più pericolose rispetto a quelle lì che hanno fatto questo scempio sabato sera. Quindi avere un po' di coraggio e mostrarsi forti contro queste persone.